Un pezzo di cartoncino, io sto utilizzando un cartoncino rosso, un bicchiere che ci servirà come rubaforma, un inchiostro, una spugnetta o un tamponcino, una matita, un pennarello indelebile, un paio di forbici e delle penne glitteratte e una fustellatrice che qua non ho. Ricalco due sagome e le ritaglio in questo modo. Vado a sporcare i bordi con il tampone e l'inchiostro, poi faccio delle decorazioni con il pennarello e poi vado a fare un buco per andare ad attaccarla o ad appenderla dove mi capita e poi vi dico Buon Natale!